E' stata fissata per il 24 gennaio la data del processo davanti al GUP con rito abbreviato per Omar Piccoli in carcere con l'accusa di omicidio preterintenzionale per la morte del pensionato Marino Gallarotti di 76 anni. Piccoli, 24 anni, difeso dall'avvocato Gabriele Pipicelli deve rispondere di omicidio preterintenzionale. Gallarotti era deceduto in ospedale il 28 settembre scorso dopo lunghi mesi di coma. Si era intromesso per difendere la ex fidanzata di Piccoli durante una lite fuori dal circolo di Nonio e il giovane lo aveva colpito. L'anziano era caduto a terra battendo la testa e da quel giorno il 10 maggio non si era più ripreso. Per quello che era accaduto con la ragazza, Piccoli è stato già condannato a un anno e dieci mesi per stalking. La moglie e la figlia di Gallarotti stanno valutando la possibilità di costituirsi parte civile al processo con l'avvocato Cristian Ferretti. Dopo aver ricevuto i risultati dell'autopsia sul corpo dell'anziano, il PM Gianluca Periani aveva chiesto il processo immediato.